Chino volevamo fare un sondaggio, spieghiamo perché, perché ieri Chino pomeriggio non voleva mangiare allora io gli ho messo un pochino di parmigiano sulle crocchette e gli è piaciuto molto Se ti piace il video faccelo sapere con un like Andrea Zenga e Rosalinda Cannavo Li stiamo vedendo molto poco sui social in quanto sempre impegnati a sponsorizzare diversi brand per cui hanno raccontato molto poco in questi mesi Andrea è impegnato a fare il modello in giro per l'Italia oggi torna dalla sua Rosalinda Questo è amore, perché io sono tornato adesso, lei sa che c'è l'Inter e oggi è cucinato, grazie Quante le è? Le polpette Che faccio? Benissimo Anche per vedere la partita dell'Inter a cui legato moltissimo essendo suo padre, ex portiere dell'Inter Walter Zenga Per questa occasione Rosalinda ha preparato una buonissima cena che lo stesso ha apprezzato e postato sui social No, noi siamo già in giro in una Milano che è un delirio Non si cammina in macchina, Andrea non ne può più No, noi siamo già in giro in giro in giro in giro in giro in giro in giro